Buonasera, come avete sentito, molte notizie, ma ce n'è una che inquieta in queste ore più di altre, in maniera contingente, l'attacco hacker di un gruppo filorusso contro Mirato, contro City e anche portali interni di alcuni gangli vitali, alcuni importanti ministeri del governo italiano e alcune importanti istituzioni pubbliche, l'arma dei carabinieri, ma anche private, banche e aziende strategiche. Vediamo. Un'azione dimostrativa e mirata contro l'Italia, compiuta proprio in coincidenza col viaggio in Ucraina di Giorgia Meloni. I hacker filorussi tornano a colpire, bersaglio, siti governativi istituzionali del nostro paese. Ministero degli esteri, della difesa, dell'interno e delle politiche agricole, carabinieri, ma anche alcune aziende, Team Banca B per Gruppo A2A Energia. Un attacco pirata è iniziato ieri nelle ore in cui la premier italiana era a Kiev e è andato avanti anche oggi con la polizia postale impegnata tutto il giorno per ripristinare i servizi. Tecnicamente non ci sono state grandi conseguenze grazie agli strumenti della cybersicurezza, ma è un'azione simbolicamente importante perché è rivendicata con un messaggio politico. Autore e collettivo vicino a Mosca, non EIM 057, già noto perché dall'inizio della guerra ha colpito molte volte. Con questo post su Telegram si attribuiscono l'azione, citando esplicitamente la presidente del Consiglio. L'Italia, si legge nel post, fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare che includerà tre tipi di sistemi di difesa aerea, come ha affermato il premier italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Kiev. Stiamo parlando di sistemi anticarro Samp-T, Skyguard e Spike. Oggi continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba. L'attacco è di tipo D-DOS, consiste in pratica nel sovraccaricare sistemi informatici inondandoli di richieste di accesso fasulle che li ingolfano, facendo crollare i siti. Per fortuna in questo caso si è trattato più che altro di rallentamenti. Il collettivo filo russo dallo scorso marzo ha rivendicato numerose azioni. A giugno per un intero mese colpì la Lituania, colpevole di avere impedito il transito di merci russe dalla regione di Kaliningrad. Poi hanno colpito Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca. Il 5 febbraio scorso nel nostro paese fu diramata un'allerta generale per un attacco a un server usato da molte pubbliche amministrazioni e aziende, colpito criptando i contenuti con richieste di riscatto in bitcoin. L'allarme fu poi ridimensionato. Lo scorso maggio molti siti istituzionali andarono in tilt per un attacco del collettivo filo russo Killnet. Stavolta le contromisure hanno funzionato. Nessun sito è inattaccabile, sottolinea la Polizia Postale. L'importante è costruire gli anticorpi per limitare i danni.